buongiorno e oggi siamo qui con il nostro esperto legale l'avvocato mario antonio massimo fusario tanto buongiorno siamo qui per parlare di una tematica molto scottante i vaccini e l'obbligatorietà dei vaccini intanto avvocato le chiedo cosa significa rendere obbligatorio il vaccino e soprattutto si può è un qualcosa di possibile da parte della legge allora innanzitutto buongiorno buongiorno a tutti e grazie per per questo incontro allora per quanto riguarda l'obbligatorietà dei vaccini se ne sta parlando poco in questo periodo ci sono delle pressioni in tal senso però non c'è ancora alcuna posizione definitiva da parte del governo che poi tra l'altro in questo periodo affaccendato nella crisi quindi è difficile se seguiranno informazioni sul punto però in realtà è un tema che ha interessato l'italia già da negli ultimi tre anni ricorderete che c'è stato nel 2017 l'introduzione dell'obbligatorietà per i ragazzi fino a 16 anni dei vaccini prima di 12 vaccini poi sono stati ridotti a 10 rispetto ai tre che erano obbligatori perché si era registrato nel 2017 un forte calo della vaccinazione adolescenziale che poteva comportare dei contagi molto diffusi sul territorio soprattutto del morbillo e in quell'anno si verificarono e quindi si manifestò secondo il governo di allora che era il governo gentiloni una situazione di necessità ed urgenza rispetto a 4885 casi e 4 decessi se noi consideriamo questo dato per cui il governo decise di decretare d'urgenza quindi col decreto legislativo l'obbligatorietà dei vaccini per una popolazione seppur limitata nell'ambito temporale dell'età fino ai 16 anni possiamo vedere che evidentemente il governo ha una titolarità e legittimità a rendere obbligatorio un determinato vaccino ma c'è di più in quell'anno cominciarono a manifestarsi le associazioni novax e ci fu un confronto serrato tra le regioni e lo stato proprio per l'introduzione di questo vaccino la regione veneto fece un ricorso al consiglio di stato e il consiglio di stato con una sentenza del 2018 che è la numero 5 del 2018 se non vado errato esatto la 5 del 2018 stabilì alcuni principi generali innanzitutto la legittimità da parte del governo o del parlamento quindi o con decreto legge o con legge ordinaria dello stato la possibilità di introdurre l'obbligo di vaccinazione qualora ci sia una causa che renda necessario questo tipo di provvedimento a tutte noi ricordiamo che la tutela della salute stabilita l'articolo 32 della costituzione che stabilisce anche un principio di autodeterminazione del cittadino però se l'autodeterminazione del cittadino può ledere i diritti della collettività in ambito di epidemiologia e quindi di tutela della salute collettiva prevale l'interesse collettivo su quello individuale quindi stabilì che era possibile legiferare in tal senso sia con decreto legge se ritenuto urgente necessario che con legge ordinaria dello stato e sia che questa necessità era dettata dal fatto che ci dovevano essere provvedimenti univoci per tutto il territorio nazionale per evitare differenze di trattamento tra gli uni e gli altri se lo riportiamo all'attualità concreta è evidente che se allora 4885 casi e quattro decessi furono ritenuti necessari per l'urgenza del provvedimento allo stato è evidente che il governo e il parlamento ricordiamo che il decreto legge può essere convertito in legge anche con emendamenti in seguito è evidente che il governo e il parlamento possono legge ferare in tal senso avvocato in questo periodo sta girando l'idea per cui i vaccini non siano abbastanza non lo stato non si sia dotato di vaccini sufficienti per tutta la popolazione in tal caso nel momento in cui fosse necessario decidere a chi elargire le cure coloro che non potessero usufruire del vaccino sarebbero considerati come una sorta di eh violazione dell'articolo 32 della costituzione che ci diceva prima? Allora qui bisogna fare una eh una considerazione il fatto che i vaccini sono entrati nel panorama ehm nel nostro panorama politico istituzionale materiale insomma nella nostra realtà solo eh da qualche mese e in una situazione assolutamente straordinaria in cui ehm c'è stata una gestazione un'elaborazione di questo vaccino che è ridotta rispetto alla sperimentazione ordinaria per i vaccini quindi ce n'è poca offerta sul mercato ovvero eh verifichiamo che eh la la quanti il quantitativo dei vaccini eh mano mano crescerà nel tempo e quindi gli approvvigionamenti saranno eh diffusi. Consideriamo che il da quanto si legge dal Ministero della Salute e da quello che emerge dalle conferenze stampa della dichiarazioni eh varie delle commissioni e eh del Ministero per avere efficacia il vaccino dovrà essere somministrato al 75% della popolazione per cui è evidente che in una fase iniziale ma anche per una capacità gestire la vaccinazione abbiamo visto che ci sono state delle difficoltà iniziali quindi l'approvvigionamento arriverà nel tempo e eh arrivati al 75% della popolazione sicuramente eh diciamo che la prova sarà superata quindi allo Stato eh è una questione di tempi e di modalità quindi non di scelta tra l'uno e l'altro. Nel frattempo dobbiamo ricordarci che eh tutti dobbiamo ehm seguire le regole basilari per la tutela della nostra salute ovvero mascherina, igiene e distanze. Mh avvocato l'ultima volta nella nostra rivista lei ha ha scritto un pezzo sulla responsabilità medica. Si può dire che con il covid sia nata un'ulteriore una nuova giurisprudenza ovvero il la responsabilità medica di cui sta di cui ha parlato o quindi il coinvolgimento da parte anche del personale medico ha detto mh prevede ulteriori ehm conseguenze nella giurisprudenza da un punto di vista legale? Allora allo Stato attuale non ci sono procedimenti eh provvedimenti che riguardano la responsabilità degli operatori sanitari e delle aziende sanitarie in tempi di covid. L'articolo che lei ha citato eh per cui vi ringrazio per il focus eh è un articolo che eh aveva riferimento mh gli episodi di sciacallaggio mediatico eh che si sono verificati nel periodo di lockdown quando eh venivano proposte cause per risarcimento del danno da contaminazione quindi da contagio di covid all'interno delle strutture sanitarie. ehm e eventualmente anche di morte perché nel periodo del lockdown più stretto nel periodo del della pandemia più eh aggressiva qua eh ci sono c'erano anche numerose morti per cui non si capiva eh bene. Facevo riferimento al fatto che eh il Consiglio nazionale forense e gli ordini forense e l'associazione forense hanno subito eh censurato tale tipo di comportamento e per studi legali e per ehm eh studi mh società che operano nel settore del risarcimento del danno eh e ehm facevamo un'analisi eh per cui era possibile verificare se ci fossero i presupposti di un'azione di responsabilità o meno. Da quell'analisi abbiamo rilevato che innanzitutto vi era una straordinarietà della situazione non conosciuta e non conoscibile al momento in cui si era verificata tutta ehm eh l'affollamento delle terapie intensive eh e degli ospedali eh per eh gestire la ehm la situazione di emergenza. Due, non si conosceva la malattia, quindi gli effetti, gli esiti, le modalità del contagio. Tre, eh gli stessi operatori sanitari erano spostati a parte avevano dei turni massacranti per gestire la situazione di emergenza. Ricordiamo che erano state sospese le ferie eh la turnazione era anche ulteriore rispetto all'orario lavorativo normale ma molti operatori sanitari erano spostati da un reparto all'altro quindi non avendo conoscenza specifica del settore dell'emergenza della terapia intensiva e della rianimazione venivano spostati da un reparto all'altro sia infermieri che eh medici e che quindi eh si trovano operali in condizioni sfavorevoli e eh di forte stress, di forte pressione mediatica tant'è che tutti li abbiamo chiamati eroi. Quindi sulla base di questi presupposti che vanno oltre l'ordinaria amministrazione, l'ordinaria gestione della eh sanità pubblica è evidente che un'azione di risarcimento danno nei confronti di questi soggetti a meno che non ci siano casi particolari e specifici che vanno valutati caso per caso messa così in linea generale eh e ehm ad un approccio insomma eh generale diciamo che sono azioni che risultano infondate. Il monito è anche quello che viene dal tribunale di Ancona dove un soggetto che eh ha esperito un'azione di eh responsabilità nei confronti dell'azienda ospedaliera e degli esercenti della professione sanitaria non fondata su dati oggettivi di una consulenza tecnica con un accertamento tecnico preventivo che ricordiamo con la legge Gelli Bianco e ehm eh è un passaggio necessario da fare per poter andare in giudizio con un accertamento tecnico preventivo che non confermava eh quanto indicato dal dal paziente sedicente ehm danneggiato proponeva un un giudizio ordinario e questo giudizio ordinario il consulente tecnico d'ufficio confermava quanto aveva detto il consulente dell'accertamento tecnico preventivo quindi l'infondatezza dell'azione e in caso di fondatezza dell'azione il tribunale di Ancona condannava questa persona non solo a pagare tutti i soggetti che erano stati coinvolti con una spesa ben al di sopra superiore di quanto ci si poteva immaginare quindi è stata veramente punitiva come eh azione per cui ehm facciamo un'analisi appunto del verificare caso per caso se qualcuno volesse fare questo tipo di azione di verificarlo perché in ogni caso non scordiamoci che i medici in questo momento storico sono eh eh stati lo sono sempre ma in questo momento storico in particolare sono stati eh i nostri eroi e quindi vanno tutelati per quello che hanno fatto nei nostri confronti. Avvocato è stato chiarissimo la ringrazio molto per questo focus e ci riaggiorniamo più là quando sapremo qualcosa in più da un punto di vista legale rispetto al vaccino e così via. Sì una annotazione leggevo l'altro giorno su eh una rivista che naturalmente eh voi sapete che il DPCM è molto criticato da una certa parte della eh dottrina e della giurisprudenza della giurisprudenza da una certa parte dell'opinione ehm giuridica diciamo eh sia da parte eh di illustri eh costituzionalisti che da parte di avvocati comuni come me che ho sempre criticato questo tipo di eh di di approccio da parte del del governo sulla la decisione di limitazione delle libertà personali e imprenditoriali. Ebbene il vaccino naturalmente dovrebbe se dovesse diventare obbligatorio come dicevo all'inizio dovrebbe essere fatto con un decreto legge o eh una legge ordinare dello Stato. Leggevo su questo articolo un monito da parte di un costituzionalista che diceva appunto evitiamo di fare DPCM. per eh imporre l'uso eh per imporre l'obbligatorietà del vaccino. Volevo chiudere con questo per eh dire che l'obbligatorietà arriva solo da una legge dello Stato. Grazie. Grazie. Grazie.